Quale ruolo possa avere la bellezza? Quale compito debba rivestire l'arte nel contesto educativo di oggi? È ben rappresentato dalle sorti che spettano alla musica e alle arti figurative in ambito scolastico. La malinconica immagine dei flauti suonati, per usare un eufemismo, nelle classi delle nostre scuole medie, il cui suono invade talvolta i corridoi degli ambienti scolastici con mesta rassegnazione, ben rappresenta il ruolo che la somma arte musicale riveste nel paese che vide la genesi del melodramma, che fu culla del teatro d'opera più noto al mondo, che fu un tempo considerato la patria stessa dell'arte musicale. Ma la drammatica clamorosa assenza della musica, che sia nella sua dimensione storica o anche solo di essenziale educazione all'ascolto dalle nostre scuole, oltre a mettere in luce l'incertezza culturale del legislatore, costituisce solo un aspetto di un problema ben più ampio e generale. Quella assoluta mancanza di consapevolezza del ruolo che in ambito educativo spetta alla dimensione estetica. L'atteggiamento nei confronti non solo della storia della musica, disciplina del tutto assente dai programmi scolastici, ma anche nei confronti della storia dell'arte o delle altre discipline di ambito estetico, così come del resto anche l'atteggiamento verso quelle di area umanistica e classica, pare dettata non solo da una carente consapevolezza, ma addirittura da una sorta di strana avversione nei riguardi di ciò che maggiormente favorisce nell'uomo una presa di coscienza di sé, una conoscenza della sua storia, una riflessione, un approfondimento dell'umano stesso in quanto tale. Pare di vedere all'opera una sorta di volontà per lo più nascosta eppure assai influente, tesa a trasformare, per così dire, la scuola stessa, di per sé luogo di formazione umana e crescita culturale, in una azienda volta alla fornitura di saperi pratici, funzionali, particolari, sempre più scissi da un sapere realmente culturale, il solo capace di favorire la paideia, cioè la formazione dei giovani, una formazione che possa dirsi effettivamente educativa, cioè orientata al bene dell'uomo. Ci troviamo in un contesto che, anziché favorire la conoscenza di ciò che, come fanno l'arte e la musica, mette a tema l'umano, pare ad operarsi per nasconderlo. Ecco dunque che all'obiettivo dell'educazione si sostituisce quello della formazione tecnica, dei saperi funzionali, di un know-how che nel suo pragmatismo pare irridere la trascendenza dei significati e del pensiero critico. In un siffatto contesto, è chiaro, non c'è posto per l'arte, non serve studiare la scultura, la pittura, non serve a nulla la poesia, tantomeno la musica, ridotta a qualcosa che concerne l'ambito dello spettacolo. Tutte queste, nel mondo pragmatico dei saperi tecnici, che non si curano affatto delle domande dell'uomo, sono considerate discipline inutili. A uno sguardo attento, tuttavia, ci si domanda legittimamente se il vero atteggiamento della cultura del contesto odierno sia una indifferenza appena, che tende a relegare tali discipline in soffitta, o piuttosto una vera e propria avversione, dettata invece dal tentativo del potere della cultura dominante di impedire, per quanto possibile, che l'uomo contemporaneo si avvicini a una reale consapevolezza di sé.